. NFL kick-off, i Kansas City Chiefs aprono la stagione con una vittoria sorpresa sui Patriots. . . Si apre con botto la stagione NFL. Al Gillette Stadium di Foxborough, i Kansas City Chiefs sorprendono il mondo e battono i campioni in carica dei New England Patriots. Stavolta non si inizierà la stagione parlando di un possibile 19-0 di record per la squadra allenata da Bill Belichick. I Kansas City Chiefs nella notte sono stati storici. Nessun team era mai riuscito ad accumulare 538 yards offensive e 42 punti contro la difesa di Belichick. . I ragazzi di Andy Reid, guidati da un superlativo Alex Smith, sono riusciti a mandare nel pallone la difesa telecomandata dei Patriots, con lo stesso Smith che è riuscito a lanciare ben quattro touchdowns, senza alcun intercetto. . . Eppure i New England Patriots erano partiti alla grande. Sospinto dal pubblico amico, Tom Brady aveva aperto la serata con un possesso da nove giocate, che aveva portato al touchdown su corsa del running back Mike Gillisley. . Ma i Patriots non si erano fermati qui, infatti dopo un fumble dei Chiefs, Brady era riuscito a condurre di nuovo la compagine casalinga al touchdown, ancora una volta realizzato da Gillisley. . Fonte immagine, Binteste e il Curtain. Da qui, è partita la reazione velenosa di Kansas City. Alex Smith ha iniziato a far girare gli ingranaggi dei bianco-rossi, aiutato anche dal Rocky e running back Remnant. . . Lo stesso Hunt è riuscito a correre per ban 148 yards, realizzando uno TD su corsa, ma anche a ricevere per ban 98 yards e realizzare ban due touchdowns su ricezione. Notevole è stata anche la prestazione del return specialist Tirek Hill. . . . Il stavolta si è fatto notare non per le sue giocate con lo special team, ma per unottima prestazione sul campo. Il vide-receiver è riuscito a ricevere sette volte il pallone dal quarterback Alex Smith, correndo per ben 133 yards e realizzando uno touchdown su ricezione. . 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